Gli ultimi dati aggiornati della regione Puglia dicono che sono 158 i casi positivi da coronavirus registrati in Puglia. Di questi 38 nella nostra provincia e 2 nella nostra città. Si tratta di due persone anziane, una residente a Bitonto e l'altra a Palombaio. In questo momento di emergenza però arriva anche qualche buona notizia per le probabili cure. Anche in Puglia infatti verrà utilizzato un medicinale contro l'artrite che a Napoli ha mostrato caratteristiche di efficacia in un gruppo selezionato di pazienti affetti da Covid-19 nell'impedire la progressione della malattia verso le forme più gravi. Il farmaco arriverà gratuitamente grazie alla società farmaceutica Rocher. Nelle nostre ASL invece arriveranno numerosi nuovi medici, infermieri e operatori sanitari per far fronte all'emergenza. Le ASL cominceranno a chiamare i vincitori del concorso per operatori sanitari. 2.149 nuovi operatori sanitari che entreranno nei nostri ospedali in questo momento complicato, durissimo, nel quale saranno molto utili e soprattutto per quello che mi hanno trasmesso in tanti di loro. Non vedono l'ora di entrare in campo contro il virus che in questo momento ci sta tanto preoccupando. Per far fronte invece ai tanti che stanno arrivando nella nostra regione, soprattutto dal nord, il ministro dei trasporti Paola De Micheli ha ridotto i treni ordinari a lunga percorrenza e notturni al fine di contrastare e contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus. Al momento in Puglia, dal 29 febbraio ad oggi, sono 16.545 i pugliesi che sono tornati dalle regioni interessate dall'epidemia. Purtroppo c'è un altro esodo in corso dal nord verso la Puglia. 3.000 persone dal 12 marzo si sono autosegnalate al sito della regione, si sono poste in auto quarantena. Stiamo valutando se chiedere anche ai loro familiari, anzi sarebbe opportuno che anche i loro familiari non uscissero di casa e si ponessero in quarantena. In ultimo, l'ordinanza della regione estende l'obbligo di segnalare la propria presenza in Puglia a tutti coloro che arrivano da fuori Puglia, da ogni parte d'Italia o del mondo. Chi rientra per soggiornare continuativamente in Puglia, nel proprio domicilio, abitazione o residenza, deve segnalare la propria presenza compilando il modulo disponibile sul portale della regione Puglia al sito www.sanita.puglia.it o segnalare questa circostanza telefonicamente al proprio medico curante.